La raccolta differenziata a Catania si procede a piccoli passi verso il 30%. Ha preso avvio ufficialmente la raccolta anche per i residenti del villaggio Dusmet con la consegna dell'azienda Dasti, dei cosiddetti carrellati, contenitori di colore diverso indicati dalla legge per differenziare il materiale da conferire in discarica. L'azione di bonifica e rigenerazione dei quartieri è passata oggi dalla seconda circoscrizione, un'attività avviata nelle scorse settimane insieme alla multiservizi e ad Energetica Ambiente. L'obiettivo del 30% è il parametro imposto dal rigido cronoprogramma formulato dalla regione siciliana, uno sforzo materiale per l'attuale amministrazione ma anche di natura culturale perché il servizio porta a porta che ha storicamente mostrato crepe e contraddizioni va anche garantito attraverso la reale manifestazione di sensibilità dei catanesi. Stiamo gradualmente aggiungendo porzioni di città alla raccolta differenziata così per implementarla. Oggi abbiamo installato già 65 carellati di colore diverso in base al tipo di materiale da smaltire, ne installeremo altri 60 dall'altra parte, è un'operazione che coinvolge circa 500 abitanti quindi una importante fetta di questa zona e contiamo anche grazie al loro supporto di continuare a implementare la differenziata, siamo già a doppia cifra, con la gara settennale che stiamo già elaborando e che contiamo di depositare entro fine gennaio con l'estensione del porta a porta a tutta la città di Catania avrete che i numeri saranno davvero significativi a quel punto. Questo è stato un quartiere un po' lasciato, abbandonato tra virgolette, i servizi anche sotto un profilo di manutenzione della parte comunque ecologica, la cerbratura è stato sempre carente e quindi facendo diversi incontri siamo riusciti un pochino a dare quella fiducia alla gente e a poterla avere anche noi dando anche alcuni servizi e potendo iniziare questo processo di differenziata in un quartiere molto popolare, molto concentrato, quindi questo è un test anche per l'amministrazione e per tutto quello che è comunque il nostro iter sulla raccolta differenziata, molto importante. Un lavoro di eliminazione graduale delle criticità operato dalla Dasti come la mancata raccolta di prossimità ai cassonetti, spesso stracolmi, che in alcuni casi sono stati anche incendiati. Noi abbiamo avuto ad oggi quattro episodi che sono importanti però non sono tantissimi quindi mi sento di dire che il fenomeno è abbastanza contenuto. La difficoltà più grande risiede sicuramente nella diffidenza, quindi nel fatto che la gente pensa che fare la differenziata è inutile e che tanto il rifiuto viene conferito in maniera indifferenziata. Questa cosa è falsa perché l'impegno della Dasti è quello di garantire che lungo tutta la filiera del ciclo dei rifiuti la frazione prelevata sia comunque conferita in maniera corretta.